La squadra ha reagito come doveva reagire, quindi si è messa a testa bassa, ha lavorato ancora di più di quello che ha fatto fino adesso per cercare di prepararsi a questa partita che sappiamo che per noi è fondamentale, è fondamentale assolutamente non perdere, è fondamentale soprattutto fare una prestazione importante per far vedere a noi stessi soprattutto che noi siamo ancora vivi, perché ci crediamo, ci crediamo un po' tutti quanti, ci credo io che sono l'allenatore ma ci credono anche i ragazzi, quindi abbiamo lavorato su questo approccio alla partita cercando appunto di non farlo più e quindi da domani si deve cambiare assolutamente legistro. Ho provato un'altra relazione perché è giusto che io provi altre situazioni tattiche perché mi possono servire anche in corso della partita, sia se vai in un modo sia se vai in un altro la partita, sia se va a favore che a sfavore, quindi mi serve un po' capire, visto che poi il 3, poi il 3-5-2, 3-4-1-2, 3-4-3, poi non l'ho più provato, voglio dire, è giusto che io dia una rinfrescata di tanto in tanto alla squadra, che se mi torna utile durante una partita, almeno loro sono pronti, non ci sono confronti con i giocatori sui cambi modi, voglio dire, cioè io se decido io di cambiare cambio, se non decido io di cambiare non cambio, perché devo parlare con i giocatori, non lo faccio mai, cioè io li rendo partecipo un po' su tutte le cose che faccio, ma poi sono io a decidere se il cambio modi, non è Zanone, non è nessun altro, 4-3-1-2 sicuro, non mi tirare fuori i giocatori che non te li dico, al nostro credo, al livello di importanza, voglio dire, perché siamo tutte e due delle squadre che hanno bisogno di punti, hanno bisogno assolutamente di prestazioni, di conferme, e quindi io non è che posso assolutamente pensare alla termana, se non sicuramente avvertire i miei ragazzi che sarà dura, che sarà una partita che noi dobbiamo giocare assolutamente col cortello credenti, dobbiamo tornare ad essere la squadra che abbiamo dimostrato in parecchie occasioni, cioè quella lì che è umile, ti viene dalla strada, che vuole lottare, vincere, deve trovare per forza un risultato a tutti i costi, deve difendere la porta come ha fatto in parecchie partite, non dobbiamo più subire quello che abbiamo subito le ultime partite, e quindi noi dobbiamo fare una partita assolutamente sotto questo aspetto qui, con una grandissima cattiveria, cioè andare lì appunto con il coltello fra i denti per portare a casa dei punti importanti per noi, assolutamente dobbiamo fare una reazione sotto un aspetto caratteriale. Come sempre, c'è stato molto sereno, ma chiaramente lui ha espresso l'amarezza che tutti quanti noi avevamo e anche lui, assolutamente, lui non mi dice le cose come è normale che siano, insomma, quando mi facciamo male e mi deve dire le cose, me le dice molto tranquillo, è chiaro che la squadra è stata bacchettata da me in modo abbastanza duro, insomma, il giorno dopo. Grazie.